nei prossimi giorni il meteo spaccherà in due l'italia a est tempo instabile con precipitazioni nevicate a bassa quota e temporali a ovest il tempo sarà migliore la circolazione depressionaria insisterà ancora qualche giorno con residui soltanto al sud da pasquetta il tempo migliorerà tornerà l'alta pressione quindi tempo soleggiato stabile e temperature in salita l'anticiclone africano farà sentire i suoi effetti innanzitutto al centro nord portando bel tempo da ovest l'anticiclone toccherà gran parte del mediterraneo e l'europa meridionale a ovest insisteranno ancora un po' correnti instabili e fresche sul fianco orientale gli esperti meteorologi annunciano l'arrivo di correnti d'aria calda di matrice subtropicale porteranno un aumento delle temperature stabilità atmosferica e tanto sole i primi caldi al nord ovest toccheranno i 23 24 gradi i valori supereranno i 20 gradi anche nelle regioni centrali del versante tirrenico e nelle due isole maggiori sulle regioni adriatiche e sul triveneto il meteo sarà stabile e le temperature con qualche grado in meno dopo le festività pasquali tornerà la primavera ma il bel tempo è destinato a durare poco l'alta pressione in altre occasioni ha dimostrato di persistere a lungo stavolta le condizioni meteo potrebbero cambiare di colpo arriverà una perturbazione dal nord europa che provocherà al nord diversi eventi come nubi venti forti acquazzoni la perturbazione sarà destinata ad estendersi al centro sud causando notevoli contrasti amplificati dall'aria calda gli effetti di questa perturbazione abbasseranno le temperature molto rapidamente causando altre nevicate sulle alpi centro orientali a bassa quota subiremo un'altalena termica continue escursioni termiche per il maltempo e la differenza di temperatura di notte nelle aree con cieli sereni e senza vento di notte l'aria sarà ancora molto fresca sud e sicilia verranno appena sfiorati da questa perturbazione che si sposterà verso est ci attende un prossimo fine settimana con maltempo che dopo aver attraversato il centro nord toccherà anche le regioni meridionali attendiamo prossimi aggiornamenti dagli esperti se il video ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti ciao 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 ciao